buonasera chi ci ascolta qui su Radio Radicale l'appuntamento con Asiatica chi vi parla Valeria Manieri da Roma invece da Bangkok c'è collegato Francesco Radicioni corrispondente della nostra emittente e dall'Asia buonasera Francesco buonasera buonasera a te Valeria buonasera chi ci ascolta ritroviamo collegata da Hong Kong davvero con piacere la giornalista freelance esperta di Hong Kong autrice del libro Le Crissi di Hong Kong di ad editore Ilaria Maria Sala davvero bentornata grazie e come avrete intuito proprio di Hong Kong parliamo non solo per fare un po' il punto della situazione in questo 2024 ma anche perché nelle ultime ore arrivano diciamo notizie in negativo su una svolta sicuritaria più stringente proprio ad Hong Kong capiamo diciamo quanto appunto pilotata appunto da 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 Pechino e in che modo appunto provato dal consiglio legislativo concede al governo maggiori poteri per reprimere il dissenso andremo poi nel dettaglio Francesco non abbiamo parlato più volte dei microfoni di eh asiatica e di radio radicale eh già nell'estate del duemila e venti Pechino aveva imposto in città appunto una serie di norme che avevano eh costretto all'esilio o eh sbattuto in carcere eh praticamente tutti i volti più noti del movimento pro democrazia c'era stata la chiusura di alcuni importanti giornali ehm di Hong Kong penso per esempio a all'Apple Daily molti dei processi compreso quello contro ehm il l'editore dello stesso Apple Daily eh sono sono ancora sono ancora in corso c'era stata la chiusura di una serie di ehm organizzazioni non eh non governative diciamo che con la legge approvata ieri i confini della sicurezza nazionale mi pare ma adesso ce lo spiegherà meglio Ilaria Maria Sala si allargano si allargano ulteriormente tre capi nuovi capi d'accusa si va dal tradimento al sabotaggio fino alla rivelazione eh di segreti di Stato il tutto condito come sempre succede in Cina da un linguaggio anche giuridico di una tale vaghezza in cui capire il confine esatto eh su cosa sia permesso e cosa no eh diventa estremamente complicato insomma come come dicono in queste ore eh diversi osservatori ormai Hong Kong è sempre più simile a una qualunque città eh della Repubblica della Repubblica Popolare nonostante la promessa del millenove del millenovecentonovantasette appunto quando Hong Kong tornò eh sotto il governo di Pechino di mantenere ampi livelli di eh autonomia Ilaria eh ho provato a riassumere così malamente eh partiamo dalla partiamo dalla dalla legge che cosa che cosa ci dice più di preciso e perché era necessaria cioè in fondo già c'era che è la domanda la legge eh intanto ha un viene chiamata articolo ventitré che per che è una cosa che va spiegata già di suo nel senso che eh è l'articolo 23 della minicostituzione di Hong Kong ehm che si chiama legge fondamentale e questa minicostituzione di Hong Kong era stata redatta proprio in preparazione del ritorno di Hong Kong sotto sovranità cinese nel millenovecentonovantasette ehm c'erano stati nell'ottantaquattro gli accordi fra la Cina e la Gran Bretagna per questo ritorno alla sovranità cinese e ehm non faccio queste date solo per precisione ma anche perché eh dobbiamo considerare che il mondo era l'ottantaquattro rispetto al mondo che è oggi nell'ottantaquattro la Cina aveva eh tutto un altro peso tutta un'altra importanza sulla scala mondiale eh sia diplomatica che economica che politica e aveva quindi ehm accettato diciamo alcune cose rispetto a Hong Kong che oggi in parte ignora proprio perché sa di poterlo fare sa di avere un peso politico e un peso ehm anche anche diplomatico se vogliamo molto maggiore dunque ehm nell'ottantasette dall'ottantaquattro all'ottantasette fino a poi ehm all'ottantaquattro più o meno è stata scritta questa legge eh questa questa mini costituzione dove fra l'altro all'articolo quarantacinque era previsto il suffragio universale sia per il capo esecutivo sia per il eh mini parlamento a cui facevi riferimento un attimo fa poi ci furono i fatti di Tenamenn 1989 la legge era già stata scritta la ehm la basic law la legge fondamentale la mini costituzione di Hong Kong era già stata scritta quando però Pechino vide l'enorme sostegno popolare che aveva Hong Kong le istituzioni a Pechino quando è anche la quantità di persone che da Hong Kong si erano recate a Pechino per essere vicini agli studenti per parlare con gli studenti se guardiamo alcune delle ultime foto di Tenamenn vediamo le tende blu nelle quali si rifugiavano di studenti quelle erano state inviate da Hong Kong il giorno dopo l'intervento armato a piazza Tiananmen a Hong Kong sotto un tifone molto di categoria molto elevata quasi un milione di persone scese per strada per protestare quello che stava avvenendo a Pechino e subito dopo questo Pechino disse abbiamo bisogno di introdurre un articolo sulla sicurezza nazionale e questo è il famoso articolo 23 allora l'articolo 23 quindi già di suo è fin dall'inizio il primo grande segnale del potenziale disaccordo fra quella che era Hong Kong e quella che era Pechino è come dire è il cavallo di Troia iniziale quello che mostra per la prima volta che Pechino si è accorta che Hong Kong non era solo terra di affari terra di piazza finanziaria commercio ma aveva un'anima politica di cui non si era mai accorta a quel punto dunque nella legge fondamentale viene scritto Hong Kong da sola valgine leggi contro la sedizione il tradimento eccetera eccetera ora siamo nel 2004 perché questa legge non è stata fatta prima per il contrappeso dell'articolo 45 ovvero finché Hong Kong era una semidemocrazia c'era stata questa forte mobilitazione dei vari gruppi a cui hai fatto riferimento che sono poi stati fatti chiudere che dicevano ok faremo delle leggi contro la sovversione solo quando in Parlamento ci saranno dei veri rappresentanti eletti interamente dal popolo ora che invece tutto questo fa parte della preistoria in un certo senso dopo le manifestazioni del 2019 dopo l'intervento diretto di Pechino con nel 2020 la legge sulla sicurezza nazionale a cui è seguita una riforma elettorale che ha tolto tutti i candidati non selezionati come patriottici da una commissione elettorale che giudica chi è patriota e chi non lo è siamo dunque entrati in una nuova era già nel 2020 la legge era molto ampia e come di nuovo hai ricordato tu con dei termini molto vaghi che in un certo senso introducevano a Hong Kong che fra l'altro ricordiamo giuridicamente si rifà al delitto britannico alla common law britannica che invece è proprio l'opposto è molto dettagliata è quasi tediosa nel suo modo di specificare molto appuntino qual è il crimine quali possono essere i presenti su cui può essere basato poi la punizione eccetera con l'articolo con la legge sulla sicurezza nazionale del 2020 si entra invece in un diritto che ha anche degli aspetti emotivi non più questo è un crimine ma l'intenzione dietro questo gesto è potenzialmente criminosa dunque se guardiamo a quello che avevamo già a Hong Kong come leggi viene da pensare ma forse non c'era questa fretta così indiavolata per fare quest'articolo 23 in un certo senso però scrivere le leggi legate all'articolo 23 passarle in tutta furia come è stato fatto è anche una prova di fedeltà a Pechino e mostrare a Pechino questo questa palla che Hong Kong aveva avuto fino adesso questa mancanza di abnegazione che Hong Kong aveva avuto fino adesso nel non scrivere questa legge ora è risolta eccola qui certo anche perché Laria tu hai ricostruito molto opportunamente tutta la storia appunto di questo di questo articolo 23 di questo dettagli sulla sicurezza sulla sicurezza nazionale e c'era un altro elemento c'è un altro elemento fondamentale che forse conviene ricordare ai nostri ascoltatori che è quello della cioè tra i motivi per cui questa 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 diciamo questa giurisdizione è stata inter legislazione è stata interrotta per per più di vent'anni praticamente è stato anche il fatto che Hong Kong pur non essendo una democrazia non essendo mai stata una democrazia ma aveva degli spazi di libertà tali che consentivano alla gente soprattutto di protestare che era uno degli elementi diciamo così cardine su cui si era formata l'identità l'identità hongkonghese e proprio contro l'articolo 23 nel 2003 il primo luglio del 2003 quindi la data simbolo del ritorno di Hong Kong sotto la sovranità cinese mezzo milione di persone 500.000 persone che in una città da 7 milioni di abitanti sono tantissime come può fare i calcoli chiunque chiunque di noi marciarono proprio per le per le strade del dell'isola di Hong Kong contro l'articolo 23 costringendo il governo a fermarsi perché c'era un tempo in cui le manifestazioni di di strada da Hong Kong fermavano le decisioni del governo questo conviene ricordarlo non solo quello che successe nel 2003 è è qualcosa che di fortissimo contrasto con quello che sta succedendo oggi perché nel 2003 quando il primo governatore post coloniale di Hong Kong intervenne per cercare di varare l'articolo 23 appunto quello che successe fu una mobilitazione generale non solo la manifestazione di piazza ma anche all'interno delle università si parlava di quello che era l'articolo 23 all'interno dei gruppi sindacali sui giornali c'erano moltissime discussioni aperte c'erano editoriali c'erano incontri perfino fra i gruppi religiosi fra i gruppi di artisti per cui veramente l'intera società si era mobilitata e l'intera società stava dicendo così come è scritta questa non è una buona legge dobbiamo specificare questo dobbiamo togliere quello dobbiamo capire che certe certune di queste cose sono già presenti nel codice e raddoppiare questa legislazione può essere pericoloso eccetera eccetera questo perché appunto Hong Kong non è mai stata democratica ma ha sempre aspirato ad esserlo e ha sempre utilizzato il più possibile tutti gli spazi che aveva a disposizione per cui nel 2003 questi spazi erano molto più grandi di quanto non siano oggi e l'interetta di questi spazi si occupava appunto di dibattere quello che era l'articolo 23 quando poi l'articolo doveva essere votato all'interno del mini parlamento quello che successe fu in realtà fu una cosa piuttosto bizzarra da una parte si trattò appunto di una forte opposizione popolare che fece che sbilanciò un po' anche alcuni partiti tradizionalmente chiamati pro governo tra cui quello liberale e da quell'altra ci fu probabilmente uno sbaglio di comprensione perché l'allora segretario del partito liberale nella confusione generale di questi dibattiti sempre più accorati fra l'altro 2003 lo dobbiamo ricordare anche come l'anno della SARS per cui di nuovo con con un parallelo un po' strano ci fu prima un dibattito politico molto acceso poi un'interruzione totale per una epidemia poi di nuovo la ripresa di un dibattito politico estremamente acceso dunque in questo contesto James Dean che allora era il segretario generale del partito liberale andò a Pechino e disse cosa dobbiamo fare reputò che era necessario chiedere direttamente a Pechino cosa Pechino volesse e qui abbiamo visto uno dei più grossi casi di incomprensione fra Pechino e Hong Kong perché la risposta da parte del partito del partito comunista James Dean fu vota in coscienza e lui l'ho presa alla lettera per cui votò contro l'articolo 23 dopo si capì che vota in coscienza voleva invece dire vota secondo il volere del partito comunista esatto come si si accade diciamo questa coscienza è sempre collettiva ma è personale per cui quello fu un momento in cui molti di noi che osservavano quello che stava succedendo qui ci rendemmo conto in modo molto concreto di quello che era la profonda differenza fra queste due entità politiche la profonda differenza anche del linguaggio politico quello che succede oggi invece ventun anni dopo è stato un silenzio totale in cui l'avanzamento la stesura e il dibattito all'interno del consiglio legislativo dell'articolo 23 è avvenuto non c'è stata una manifestazione non c'è stato un editoriale non ci sono stati i dibattiti voluti dai vari gruppi che ho elencato prima perché la maggior parte di questi sono stati eliminati sono stati messi fuori legge i giornali che più si erano mobilitati per parlare dell'articolo 23 sono o stati fatti chiudere oppure si sono ritrovati ad avere una compagine molto diversa anche la radio pubblica che aveva ogni mattina dei dibattiti sull'articolo 3 con persone di tutti i partiti politici adesso invece è diventata molto più simile alla radio pubblica cinese per cui si restringe sempre di più prego all'inizio degli anni 2000 e c'è questo dato che io ricordo sempre perché lo trovo lo trovo incredibile all'inizio degli anni 2000 la libertà di stampa a Hong Kong una città sotto sovranità cinese già da diversi anni era secondo reporter Senza Frontiere al diciottesimo posto molto più libera dell'Italia per intenderci ok oggi è sprofondata oltre il cento quarantesimo non mi ricordo esattamente comunque però c'erano questi questi interstizi in città dove effettivamente si 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 potevano fare un sacco di cose diciamoci la verità anche da un punto di vista non erano interstizi erano piazze esatto erano spazi ampi c'erano all'interno la differenza fra ieri inteso come 2003 e oggi c'erano all'interno delle università le unioni studentesche che potevano dibattere e dibattevano molto ampiamente c'erano in diversi luoghi in tutte le università ma anche in altri luoghi i cosiddetti muri della democrazia in cui tutti andavano a mettere i loro volantini a mettere le loro opinioni sotto i muri della democrazia si discuteva i muri della democrazia sono stati tolti le unioni studentesche non esistono più diversi dei loro leader sono a processo o imprigionati altri invece sono in esilio per cui stiamo parlando di un cambiamento molto visibile molto significativo molto importante e non c'è stata nessun tipo di opposizione a questa legge non perché Hong Kong sia diventata adesso un'altra una città che accetta senza dibattito in un certo senso senza desiderio di dibattito una legge di questa natura ma perché nel frattempo c'è stato il 2020 con l'inserzione all'interno del codice di Hong Kong di questa legge sulla sicurezza nazionale che contrariamente all'articolo 23 è stata pensata scritta e approvata a Pechino e poi senza nemmeno che avessimo avuto il tempo di leggerla entrata in vigore a Hong Kong la legge è entrata in vigore sei ore prima di essere pubblicata per cui ci sono state queste magiche sei ore in cui uno poteva potenzialmente commettere crimini a sua insaputa perché appunto la legge non era stata ancora resa pubblica in un altro l'abbiamo visto poi nella pratica è stata applicata in modo retroattivo in tutta una serie di di casi citavo prima appunto l'editore dell'Apple Daily ma insomma appunto è sotto processo per una serie di editoriali scritti prima della pubblicazione della legge Francesco e ovviamente L'Area Maria Sala un ultimo diciamo parentesi che vorrei aprire perché insomma il tempo purtroppo corre ed è tiranno rispetto poi tornando un po' al principio a questa svolta un po' securitaria con questi ulteriori diciamo restringimenti tra l'altro tutta la storia di queste diciamo di questa di queste continue in qualche modo assottigliamenti no delle libertà e L'Area Maria Sala ce le sta raccontando appunto in questo spazio oggi realisticamente quali sono le prospettive che ha davanti Hong Kong che hanno davanti le opposizioni e ovviamente cittadine e cittadini anche rispetto ovviamente al rapporto con Pechino sapendo appunto anche Pechino come ha iniziato questo 2024 con insomma alcuni riferimenti a diciamo a territori a territori complicati per loro complicati sì ma qui si entra invece secondo me su una parte un po' più un po' meno bianca e nera perché da una parte io ho visto molta stampa estera accogliere questa nuova legge senza mezzi termini e conclamando la morte di Hong Kong l'ennesimo chiodo e questo secondo me è abbastanza ingiusto non tanto rispetto al potere che ha questa legge di di togliere ulteriori libertà ma al fatto che Hong Kong c'è ancora e è inutile bruciare l'edificio mentre ci sono ancora dentro delle persone che stanno lottando per avere un po' più di spazi all'interno di questa di questo grosso restringersi delle possibilità di libertà ci sono però persone che cercano di utilizzare tutto quello che rimane io avevo anche sui social in questi due giorni molte persone di Hong Kong che magari non erano quelle più in vista nel campo dell'opposizione nel campo politico eccetera che dicono sono determinato a restare qui e a continuare ad essere la persona che crede nei valori della libertà nei valori della libertà politica nei valori della libertà economica eccetera per cui tutto questo avviene quando in un certo senso il patente è ancora vivo per cui ci sono qui molte persone che in parte stanno cercando di capire fino a dove si spingono queste leggi e capire qual è lo spazio di movimento che c'è al suo interno ora stiamo aspettando la settimana prossima l'inizio della della settimana d'arte intorno alla fiera di Arbasol e di nuovo anche nel campo artistico ormai non c'è più l'arte politica non c'è più l'arte politica questo è in gran parte vero c'è però tantissimo altro in cui le persone cercano di esprimere tantissimo altro che magari non è espresso altrove pur muovendosi all'interno di appunto di questo recinto di censura che si fa sempre Hong Kong che non può più manifestare come prima non è una Hong Kong completamente passiva completamente silenziata quella che quella su cui vengono applicate queste leggi anche perché immagino se lo fosse se veramente le autorità pensassero di aver avuto di aver convinto tutti forse non sarebbe stata necessaria questa fretta indiavolata le cose che diceva un attimo fa Ilaria Maria Sala me le aveva dette una donna straordinaria di Hong Kong che si chiama Emily Lau che è una donna appunto straordinaria lei è era una giornalista era una è stata un membro del consiglio legislativo del campo democratico e appunto l'ultima volta che ci ho parlato all'inizio dell'anno proprio a Hong Kong mi ha detto mi ha detto più o meno questo cioè non siamo ancora è un quasi un messaggio veramente di resistenza non siamo ancora una città uguale a quelle della scena continentale c'è un po' di confusione su su dove su cosa si possa fare su cosa si possa dire ma non siamo ancora una città come le altre della scena continentale devo dirti Lari e su questo ti voglio ti voglio sollecitare perché appunto tu vivi a Hong Kong da tanti anni quando sono venuto a in città a cavallo di capodanno mancavo da dal 2019 perché appunto tra le restrizioni della pandemia eccetera mancavo dalla città da molto e l'ho trovata incredibilmente cambiata incredibilmente cambiata cioè era molto più difficile trovare persone coraggiose a parte Emily Lau appunto che avessero voglia ancora di parlare di politica ma l'ho trovata una città molto cambiata anche nei suoi aspetti demografici è una città dove ce lo dicono le statistiche che sono oltre alle conoscenze comuni che abbiamo ognuno di noi conosce qualcuno che abitava Hong Kong e che ha deciso di lasciare Hong Kong ognuno di noi conosce un'azienda che ha deciso di spostare il proprio quartier generale per l'Asia fuori da Hong Kong che invece appunto l'hub è un po' per moltissime aziende della regione così come oggi la mia impressione è stata girando per le strade di Wanchai o di Central o di Cosuebei quella di sentire sempre più spesso parlare in mandarino e sempre meno in inglese diciamo come seconda lingua rispetto rispetto al cantonese insomma anche questo forse qualcosa ci dice rispetto alla città appunto prima hai anche tu questa impressione o ero io poco abituato a Hong Kong e cosa ci dice ma ci dice due cose diverse perché è vero che molte persone sono partite ma non sono tutte partite per lo stesso motivo molte persone che si sono postate con le aziende con i quartieri generali delle aziende eccetera lo hanno fatto più per la politica dello zero covid che li aveva molto impauriti rispetto che ai cambiamenti politici perché per molti di loro quando Hong Kong ha seguito la politica cinese nei confronti della pandemia con questa chiusura praticamente costante si sono detti qui su cose quali una pandemia il cui ritorno non possiamo escludere Hong Kong ha smesso di seguire quello che fa il resto del mondo ha smesso di seguire delle linee se vogliamo scientifiche ma segue quella che è la linea dettata da Pechino per cui rispetto a questo alcuni si sono spostati ma non per dei paradisi democrat alcuni sono andati per esempio a Singapore dove questo tipo di leggi sono già state varate da diverso tempo per cui non hanno lasciato Hong Kong per le leggi repressive ma appunto per il timore è che l'aderenza alle l'adesione o l'aderenza non so alle idee di Pechino vada anche nel campo scientifico per cui questo è ovviamente diverso da quelli che sono partiti o in esilio o decidendo che la Hong Kong di oggi non è più la Hong Kong che gli dava piacere a viver ci gli dava stimolo eccetera è vero che dunque in questo modo quello che sentiamo anche per tutta una serie di agevolazioni che sono state fatte dall'amministrazione di Hong Kong per favorire l'immigrazione di talenti dalla Cina continentale verso Hong Kong oggi c'è una quantità di persone la cui prima lingua è il mandarino molto più alta di quella che non c'era fino a qualche anno fa siamo fuori tempo massimo quindi dobbiamo davvero chiudere e ringrazio davvero sia Francesco che Ilaria Maria Sala con la promessa ovviamente che torneremo a parlare di Hong Kong anche perché insomma gli spunti come avete sentito non mancano davvero grazie a Ilaria Maria Sala giornalista freelance autrice del libro delle crisi di Hong Kong che è proprio collegata stasera da Hong Kong grazie ancora e grazie ovviamente al mio compagno di viaggio Francesco Radicioni invece da Bangkok corrispondente appunto per Radio Radicale dall'Asia grazie ancora e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti